Vero, vero, degno, giusto e giustissimo mandare un saluto, anzi se qualcuno sta facendo qualche video in diretta vorrei un applauso veramente, ma veramente forte per il nostro amico Livium che stasera non era troppo in forno non sta troppo bene il video del piccolo questa sera ma ci sta ascoltando pari grazie alle tante dirette quindi un bel applauso forte per il nostro Livium! E allora il prossimo brano è un brano sul quale potremmo parlare ore, magnifico ore, giorni, quindi tagliamo Joe, Joe, Scheng! E' andato nella mia vita, sai? Vai, 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 vai! E' andato nella mia vita, sai? Alla prossima 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 Alla prossima